E' ora della valle per Gabriel che va nell'angolo da Moss, che ha cresciuto immediato di David Moss. 11 a 7 per la Germania, ora Logan che alza la parabola, prima giocata da fenomeno assoluto di David Logan. Buona difesa di Gabriel, gara dopo di Petruccelli, che è un cobra in quelle situazioni, propizia le copre a Quaymour. Con la ciliegina sulla torta, senza carezzo della parte a Quaymour, pasticcia, il rubato di Metruolo, che poi, le mani del ferro. Deve stare molto in pazienza su di lui, da un'altra parte, bellissima palla di La Quintana. Nuovamente da Mitrurong, uno contro uno di Mitrurong, più del paledurista, l'impatto di Passi, per la valle. Il jolly di Amedeo della Valle. Buon infatto di Treyer, insomma ha scoccato il foglio, ma almeno ha fatto vedere buone cose. Ultimi introdotti, secondo intanto Mitrurong per Moss, gli regala metri di spazio. E David Moth non può proprio sbagliare la tripla del 40 a 32, ultimo possesso per Sassari con Quaymour, che dovrà forzare da tre punti. Va lungo sul secondo ferro e la gran giocata di Mitrurong per la bomba di Moss, nell'attacco di Sassari. Quaymour deve forzare da tre punti, dentro è fuori, nessuno può la taglia fuori Bencius e Lituano segna. Subisce il fallo Eldranoletta con libero aggiuntivo. Tutti vanno pesati, non solo puntati, che Mitrurong con Moss. Per Limor, arriva anche la prima tripla. Bornell cerca una brutta palla, legge tutto. Mitrurong c'è il recupero e palla a Lyon. Limor per Michael Cobbis. Un attacco molto importante per la Dinamo, che saffina David Logan. Logan scarica per Treyer. Leston si fa largo e segna un canestro importante. Bravissimo Kaspar Treyer. Vorrebbe andare da Mekowulo, invece no, si rifusa da Logan. Logan poi va dentro da Mekowulo, che si libera in qualche modo. Cobbis vola a tre metri di distanza. Nadal per Limor. Allora si torna da Della Valle, che deve inventare un tiro da lontanissimo. La tabellata di Amedeo Della Valle. Della Valle poi astride il blocco di Chris Burr. Si gioca il pick and roll. Poi giocata di Snake, come si dice in gergo. Beresha ancora non deve fare l'errore di smettere di giocare. Va per Terramitro Long. Logan da tre punti. Il professore si sblocca. Forse è troppo tardi, forse no. Ultimi 90 secondi. Qui del paletto della Valle scambia con Burns. Poi da Malancora Burns. Bellissimo taglio, bellissimo roll. E dunque finisce qui. 7-6. 6-5. La vittoria della Germania di Brescia. Contro il banco di Sardegna Sassari. 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 Grazie a tutti.